Vaccinazione in Ampo, in provincia di Sondrio, nell'Alto Lario, per far ripartire in sicurezza l'anno scolastico. A partire dal lunedì 23 agosto torneranno a essere operativi i centri vaccinali gestiti da SST, Valtellina, Alto Lario, Assondrio, Morbegno, Chiavenna, Gravedona, Sondalo e Villa di Tirano. Gli studenti universitari, anche residenti in altre regioni o stranieri, possono prenotarsi sul portale di Regione Lombardia. La somministrazione del vaccino è garantita entro 48 ore o comunque entro le due giornate successive alla prenotazione. Per quanto riguarda i minorenni, possono essere vaccinati solo i ragazzi che hanno già compiuto 12 anni. Il giorno fissato per l'appuntamento dovranno presentarsi al centro vaccinale accompagnati da un genitore muniti del consenso informato che si può scaricare dal sito della Regione Lombardia o richiedere direttamente al centro da firmare davanti al medico vaccinatore da uno dei due genitori o dal tutore legale. Il genitore o tutore legale dovrà inoltre dichiarare di aver informato l'altro genitore sulla vaccinazione del figlio. In considerazione dei numeri ancora alti di studenti non vaccinati e nell'auspicio di un aumento delle richieste, la prenotazione consente di programmare l'attività dei centri vaccinali massivi senza creare disagi alle attività già in calendario per la somministrazione di prime e di secondi dosi. A questo proposito è rinnovato anche l'accesso libero, ovvero la possibilità di recarsi in uno dei centri vaccinali senza prenotazione. Dal 23 al 29 agosto questa facoltà è però concessa soltanto agli ultrassessantenni, al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e agli operatori sanitari e sociosanitari.